Sì ma c'è diversi video su cosa No no ti guarda sempre quelli da joystick Bella partita si è fatta però No 7 in totale io ho fatto 4 Sì ho visto ce l'ho fatta a farla nera Bella La skin più bella adesso perché troppo è fine Poi non c'entra un cazzo però Hai messo pronto o no? Sì Capito che i cammini finiranno via a lavorare Per due giorni sarebbe stato perfetto fino a un duecentino Però se mi chiamano quei magari le ferie e ste cose Tanto mi do a pagare il canale Pagate il canale mi metto a studiare 3 mesi Perché almeno fino all'inizio dell'anno Voglio iniziare a vedere Cioè al fine gennaio Perché sono tutto un cartà con tutti Le cose fiscali Ecco E se te che metti rip Sì Sì Ma meno male Cazzo Oh siamo in aria Io sono qua tutto blu Ma come sei? Già in aria sei? In aria nel senso è tutto blu Non si vede la mappa Ma sei rinicoso? Sei nel pullman? No no che pullman Partita così Tu sai che ti dico fa freddo Ci c'è nel presso periodo E ringrazio in Dio Non ha fatto freddo prima Eh ma mo' piove Cioè ha messo il pioggia domani Dove domani Mi sa Eh va bene Non è male no? Non è male no? Ma c'è mappa No Vabbè buttati Dai No Perché Bello Stiamo vicino Vero da sei Anche io Anche io 3 2 1 Aspetta Se tu apri la mappa è tutto in safe Capito vedi? Ma non so se stanno arrivando loro o stiamo andando noi Non lo so Andre vanno qua giù Ma come un giucolto l'hanno ammazzato? Ce la fai a rientrare? Scappa 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 E' il nuovo post Ne hai visto? Sei rientrato eh? Monofarto 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 Ma non c'è niente Che prima di andare la giusta in piedi c'è una cosa quadrata Guarda c'è di spani c'è una cosa quadrata C'è hanno messo un materazzo Arrivo Che schifo ragazzi Che schifo Che schifo Guarda c'hanno le armi lì a destra eh C'hanno le armi? In basso Si Non l'hai visto? Aspetta c'è tutto raggiù Qui c'è roba vieni qui da me Vieni qui da me c'è roba c'ha armi C'ho armi C'ho un'arma eh C'ho un'arma C'ho l'arma che c'è lì Di destrazione Però non ci fa Prendiamo materazzo Prendiamo lui Noi dobbiamo approfittare Noi dobbiamo approfittare Non ci fa 31 Stiamo proteggendo Non ci fa Non ci fa Non ci fa Ma abbiamo fatto Non ci fa Non ci fa Non ci fa E' così si 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 sono è così è la mappa è così guarda qui arriva una mongolfiera vedi ci abbiamo ci abbiamo uno qua ma non si prende mica loro fatto tieni bene bene che m'hanno fatto porta madonna non c'è niente c'è queste basso dammi dammi sì le borracce dai c'è le munizioni qualche c'è guarda che c'è mi sparano porca madonna prendi la roba qui dai no che ho speso i soldi non c'avevo niente fammi prendere me questi da non me le fa prendere da meno non c'è la faipe c'è la faipe qua Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. ma è andato via vabbè meglio così cazzo vabbè che schifo però questo lo voglio flippare